Probabilmente occorrerà attendere qualche giorno prima che gli uffici del Comune di Battipaglia possano predisporre gli atti per una delibera di giunta sui parcheggi tra Battipaglia e Deboli. Infatti l'Ufficio Tecnico dell'Ente Battipagliese starebbe redigendo la proposta di delibera che la Sindaca Giacile Francese e gli assessori dovranno verificare per l'approvazione. La concessione del nulla osta metterebbe fine ad una discussione nata lo scorso 16 novembre quando il dirigente del settore tecnico, l'ingegnere Carmine Salerno, chiese di annulare la gara da pochi giorni proposta dal Comune di Eboli per la gestione delle aree di sosta e dei servizi connessi alla balneazione. Poi il 4 dicembre la sospensione della gara e la richiesta del nulla osta.